Ciao ragazze, allora nuovo video, scusate per il look super strong, super selvaggio, ma oggi è veramente una delle giornate più calde dell'estate ma io non potevo stare a poltrire sul divano, ho deciso lo stesso di girare un video perché per me sono delle novità però dei prodotti da Eurospin di cui volevo assolutamente parlarvi sul canale, anche perché ho visto che non ci sono grandi video a riguardo su Youtube parleremo in questo video infatti delle acque profumate Eurospin, più precisamente vedete queste fior di magnolia chiamate semplicemente acqua profumata per il corpo prima di iniziare con il video però volevo farvi vedere dei pacchettini che mi sono appena arrivati da Lala Lab il contenuto sono praticamente alcune foto che ho voluto far stampare, ne ho con precisione due allora nel primo ci sono naturalmente 50 foto con all'interno, vedete, tutte queste mini foto con tutti i momenti più salienti come potete vedere del mio matrimonio, proprio perché sto realizzando degli album devo dire che la qualità è ottima, nonostante le foto comunque siano, vedete, abbastanza piccoline sempre nella seconda bustina che ho ricevuto da Lala Lab ho poi altre 50 foto ok, qui addirittura sono con mio papà, sono comunque identiche a quelle di prima devo dirvi che sono sempre molto soddisfatta del servizio Lala Lab vi lascio qui in sovraimpressione il codice sconto da utilizzare sull'app o sul sito Lala Lab ma anche giù nell'info box e ragazze, veramente affidatevi se dovete far stampare delle foto di quadri a questo sito perché la qualità è molto buona, le spedizioni sono molto rapide e loro sono davvero molto molto gentili ma comunque, tornando al tema del video, devo dirvi che a sorpresa, perché non l'avevo mai notato ho visto che tra tutti i prodotti beauty di Eurospin fra appunto tutti i prodotti fior di magnolia possiamo trovare oltre che i profumi, quindi l'Eau de Parfum, quelli in vetro di cui vi ho parlato in ben due video che poi vi lascio qui nelle schede ora ho pensato, visto che è estate e visto che comunque so che i profumi non sono tanto graditi sia da me che da tantissimi di voi appunto nel periodo più caldo ho dato un'occhiata a tutti i cosmetici fior di magnolia e gli occhi mi sono caduti su queste acque profumate per il corpo che tra l'altro, quando sono andata io in negozio erano anche in promozione da 3,99€ a 2,99€ il motivo per il quale vi sto parlando di questi prodotti in realtà è perché io ne ho scovate un bel po' e la maggior parte di queste sono dupe di profumi molto famosi ma andiamo per gradi per prima cosa il packaging di tutte le acque profumate è questo quindi trasparente con l'acqua profumata colorata all'interno ogni acqua profumata contiene 200 ml di prodotto e come vedete ha un pao di 12 mesi l'inci non è fatto proprio bene perché comunque contiene oltre l'alcol denaturato, l'acqua e il profumo anche un PEG 40 sicuramente troveremo tantissime acque profumate con inci anche un pochettino migliore ma comunque dobbiamo pensare che essendo un prodotto che tendiamo non troppo a mettere sulla pelle almeno io preferisco metterlo sui vestiti scovando un po' diciamo tutte le acque profumate che ho trovato in negozio ne ho viste totalmente 8 che hanno tutte lo stesso packaging quindi hanno tutte lo spray in questo modo cambia di ognuna come vedrete anche dalle immagini che scorreranno da adesso in poi il contenuto del profumo all'interno ma vorrei passare ora ad elencarvi naturalmente tutte le acque profumate che ho scovato in negozio e tutti i dupe che ho trovato annusandole un pochettino come potrete vedere ho deciso di acquistare per ora solamente un'acqua profumata per questo mi sento anche di farvi una piccola recensione anche perché vedrete in seguito che già l'ho provata un bel po' e quindi so darvi una mia opinione la prima acqua profumata che ho visto in negozio si chiama acqua profumata per il corpo fior di magnolia irresistible ragazzi sinceramente di questa acqua profumata non sono riuscita a scovare il dupe quindi come sempre come in ogni video dei profumi famosi chiedo a voi se per caso avete già provato questa acqua profumata o queste acque profumate e se conoscete il dupe che sinceramente a me è sfuggito io sono riuscita a trovare più della metà dei dupe ma alcune mi sono sfuggite quindi se riusciamo ad aiutarci a vicenda sarebbe davvero molto carino vi ricordo che comunque nell'info box trovate tutto lo schemino con il nome dell'acqua profumata fior di magnolia e il profumo dupe corrispondente seconda acqua profumata trovata in negozio si chiama first kiss questo essendo un profumo molto molto famoso risponde a amor amor di cacharelle quindi se adorate i profumi più dolci e talcati vi consiglio assolutamente di provarlo abbiamo poi sweet seduction sweet seduction corrisponde al profumo famosissimo la vie belle di lancome quindi consiglio questa acqua profumata per lo più a chi adora profumazioni più dolci passo poi a gently melody di cui ragazze purtroppo non sono riuscita a trovare il dupe quindi se magari voi lo sapete scrivetemelo come sempre nei commenti ho poi visto in negozio l'acqua profumata per il corpo pinky spring che corrisponde al profumo famosissimo di trussardi my name proseguiamo poi con l'acqua profumata che ho deciso di acquistare ossia dazzling queen come potete vedere è nello specifico questo prodotto qui allora devo dirvi che il profumo mi è piaciuto tantissimo per questo naturalmente ho deciso di acquistarla ma anche perché corrisponde al profumo di chopard cashmere se devo darvi un'opinione sul tipo di profumo lo sento molto signorile lo sento molto donna dolce ma non troppo per questo mi è piaciuto molto le ultime due appunto trovate in negozio sono poi la più famosa e la più acquistata ossia libeli spirit questa praticamente la riconoscete perché è l'acqua profumata che ha il colore celeste e ragazze il profumo è identico a dolce gabbana light blue l'ultima acqua profumata per il corpo fior di magnolia è vanity soul e anche di questa purtroppo non sono riuscita a scovare il dupe detti un po' tutti i dupe spero naturalmente che vi siano utili volevo dirvi due cose prima cosa volevo farvi una recensione su questo prodotto visto che comunque l'ho provato un bel po' in queste tre settimane io la sto adorando in questo periodo di gravidanza perché ragazzi dura davvero pochissimo il profumo nonostante sia messo sulla pelle si sente sì però almeno su di me resta su massimo un'oretta un'oretta e mezza dopo dopo le due ore comunque ho notato che tende sempre a svanire quindi comunque io la sto utilizzando con molto piacere mettendola soprattutto sui vestiti perché mi rimane su quella mezz'ora quell'oretta poi svanisce non mi provoca mal di testa però se dovessi dirvi che la utilizzerei come acqua profumata per tutti i giorni normalmente quando non sono in gravidanza no perché comunque a me piacciono i profumi che si sentono e queste acque profumate invece tendono un pochettino a svanire se dovessi considerarvela per l'estate sì assolutamente perché comunque se siete persone che non adorate profumi troppo forti o acque profumate che si sentono troppo nel tempo o con il caldo non riuscite a portare grandi profumi sicuramente è il prodotto adatto a voi oppure ad esempio se adorate il profumo Amour Amour di Cacharel vi dico sì ragazzi provate acquistate First Kiss magari First Kiss ve la utilizzate durante diciamo per andare a fare la spesa per tutti i giorni e poi magari il Cacharel originale ve lo utilizzate per le occasioni speciali o quando uscite eccetera perché comunque io ci tengo a precisarlo perché leggo sempre tantissimi commenti eh ma tu che dici queste acque profumate non saranno mai a livello dei profumi originali è grazie al cavolo il Cacharel lo vai a pagare 30-40-50 euro l'acqua profumata di Eurospin la vai a pagare 3-4 euro spero che con questo diciamo appunto di aver chiarito un po' tutti i dubbi e tutti i commenti che ho trovato soprattutto sotto gli ultimi video dei profumi dei profumi famosi comunque ragazzi con questo è tutto vi mando come sempre un bacio grande ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video ad agosto non vi mollo ciao grazie a tutti grazie a tutti